La struttura Una volta preso ordinerò l'estrazione Corri quanto vuoi Annette Ma non puoi nasconderti Richiesta identificazione con bracciale La struttura Complimenti Vuoi bruciarli viva? Non metterai mai le mani sul G Non sono la sola a volerlo Lo sai questo E non sarai la sola a morire Ma non sono la sola a morire Non sono la sola a morire Ma non sono la sola a morire Voi l'astronza salva tutto suo. Account ospite confermato. ID autorizzato fino al primo ottobre. Restituirlo entro questa data. Non credo proprio. Basta. Giocare a nascondino. E va bene. Cambiamo gioco. Dimmi. Tuo marito è ancora vivo. O l'hai ucciso per prenderti il merito del giro? Teoria interessante. Se non collabori, otterrò un campione dal nest. Non finché sarò fin. Baccati solo. Dov'è Leon? Quando serve? No. 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 No, no, no. Adà. Ah, diavolo. Mmm, che profumo. Fantastico. Fantastico. Ah, merda. Ah. 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 Sperate. 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 Che diavolo era quello? Oddio. Ma è sempre peggio. Sperate. 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 Ok, ci sono quasi, Ada. Cazzo, devo attivare la corrente. Ma che Cristo? Cazzo, devo attivare la corrente. E' ancora vivo! No! 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 Sei fottuto! No! 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 Non ti libererai di me. Mi hai salvato! Ora è il mio turno! Non pensavo tenessi il conto. Appoggiati a me. Non allargarti. Ok. Io volevo aiutarti. Attenzione. Vuoi aiutare? Dobbiamo andare al Nest. Il Nest? Il laboratorio. Sotto di noi. Ne parlava Annette. I campioni del virus sono lì. Te la senti? Non credo di avere altri impegni. Avanti. C'è del lavoro da fare. Sì, signora. Andremo al nest con la funicolare. Il braccialetto e il lascia passare. Bene. Dove l'hai preso? In prestito. Comunque, ci siamo quasi. Ah, maledetta gamba. Lascia che ti aiuti. No. Non sono la tua ragazza. Come va la spalla? Peggio di come sembri. Che bella coppia. Entrambi con un piede nella fossa. Con questa dovremmo farcela. Arrivati. Potremmo non tornare più. Quindi preparati, Fiona. Questa vettura è diretta al nest. Non uscire fino a destinazione raggiunta. Sai che penso? Non vedo l'ora che l'FBI mandi in galera tutti quei bastardi dell'ombrella. Anch'io. Ma sia chiaro. Questo non è di tua competenza. È un caso federale. Ottenuto il virus G, io me ne andrò. Ehi, Leon. Ti fidi di me? E tu di me? Pensaci. A quest'ora saresti morto. Già. Ho voluto fidarmi di te. E ho fatto bene. Se mi porti il virus G, ti assicuro che non ci sarà mai più un'altra racconcidina. Ah, dai. L'hai detto anche tu. È un caso federale. Non ho l'autorità. Io. Ascoltami. Da sola non ce la faccio. Sei l'unica speranza che ho per chiudere il caso. Non ti posso abbandonare. Se ti attaccassero, se avessi bisogno... Ce la farò. Non preoccuparti. Voglio andare fino in fondo. E voglio vederti di nuovo. Ho voglia di vivere, credimi. Siamo in arrivo al Neste. Vai. Su, non abbiamo altro tempo. Ti servirà. Ok. Leon. Conto su di te. Lo so. Lo so. Sì. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Benvenuti al NEST. Godetevi la visita. Diavolo. Guarda un po'. Ok. E vai. Trovato. Finalmente. L'agente antivirale. Devo tornare da Sherry. Ok. 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 I nostri minuti vengono in corso alle vostre esigenze grazie alle più avanzate tecnologie. Grazie a tutti! 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 Siete stati monitorati e sarete soggetti a misure disciplinari. Merda! Grazie! Grazie! Archi! Okagارla! Spero che il campione sia qui. Alla prossima. Spero che il campione sia qui. Questo è il lavoro di una vita! Non lo avrete mai! Scordatevelo! Abbiamo degli ordini, dottor Birkin. Glielo chiederò ancora una volta. Tutta la fermica è stata in fuoco! Che cazzo ti è saltato in testa? Gli ordini erano di catturarlo vivo! Ci siamo signore, ma c'è stato un problema. Ha opposto resistenza ed è stato abbattuto. Esatto, signore. Ricevuto. Preleviamo il campione. Muoviamoci. Sono questi i campioni del G. di B. Sì. 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 Sì, sì. Beh, è facile. Ok, posso tornare da Ada. Attenzione, rilevata rimozione non autorizzata di un virus di livello 4. Avvio, isolamento e struttura. Al termine verrà avviata la sequenza di autodistruzione. Grazie.